C'è Fermento 2013 la nostra web tv per conoscere i produttori birrifici Mastri Birrai e soprattutto gli appassionati di birra come Marco del birrificio Menaressa che arriva dalla Lombardia e precisamente mi dicevi da Carate Brianza. Come nasce l'esperienza del vostro birrificio? Il birrificio è nato nel 2007 da altri due soci Marco e Enrico, adesso sono da un'altra parte, hanno fatto questo birrificio in Brianza al primo e poi io sono subentrato un anno fa dopo un'esperienza in una multinazionale dei dolci qua vicino, poi sono laureato in tecnologia elementare, ho fatto un po' di birra in un po' di birrifici e ho deciso di fare birra insieme a loro. Che tipo di birre producete, quanti sono i tipi di birra? Noi facciamo tutte birre a alta fermentazione, ne facciamo considerando anche Baskers che è l'unico conto terzi che facciamo, ne facciamo 18 tipi, ci sono una marea però vabbè qualcuna è proprio una cotta all'anno giusto per fare o le acide o le invernali e stagionali, di base ne abbiamo otto sempre fisse poi in base a quello che la stagione o i prodotti del territorio propongono, tipo la castagna, il fiore di Sambuco, o magari un'edizione di natalizia di una India Pale Ale, abbiamo otto fisse e poi ci giriamo intorno. Bene, a chi viene l'idea di provare una birra nuova da dove prendete gli spunti? Ottimamente le idee vengono a me, magari sono anche troppe, infatti abbiamo un impiantino pilota, facciamo birre, tante birre sperimentali, perché a noi piace comunque prima di andare in produzione su un impianto grosso, fare una cotta di prova su un impianto, abbiamo un impianto da 50 litri, ultimamente vengono a me però poi io e Enrico che è l'altro birraio scappiamo un sacco di idee, facciamo le birre di prova, facciamo le bottiglie, i fusti, poi ce li beviamo, è l'importante comunque in una birra è una prova pinta per noi, se riempi la pinta ce la fai a berla in meno di 5 minuti vuol dire che la birra può essere messa su commercio. E le fate ovviamente voi queste prove? Le facciamo noi, sì. Vabbè, la passione è anche questa. Senti, come vi trovate a Cefermento? Bene, bene, è la prima volta che vengo qua in Piemonte, poi io sono venuto volentieri perché anche tanti ex colleghi sono venuti a trovarmi, per noi siamo semi o totalmente sconosciuti nella zona, è un modo per farsi conoscere visto che comunque siamo piccoli produttori e... Rimarrete produttori? Avete intenzione magari, come fanno molti, di aprire un locale collegato alla vostra produzione? Ma adesso abbiamo una... non abbiamo un locale, abbiamo una tap room dentro il birrificio che ci dà molta soddisfazione, abbiamo tre spine e una pompa, il sabato la gente viene, si sbronza, si bevono come degli disgraziati, però un locale a nostro marchio ci stiamo pensando, è dura perché comunque è un altro tipo di lavoro, vediamo come va il futuro. Va bene, grazie Marco, grazie al birrificio Menaresta che è appunto ospite di Cefermento 2013. Alla prossima! Ciao!